Treviso off limits per la dunata e il traffico va in tilt, mattinata da incubo per gli automobilisti. Aggredito a Londra da uno sbandato si aggravano le condizioni del trentenne di Breda. La procura di Udine apre un fascicolo e inserisce come unica indagata la Petrillo. Alpini a Treviso, boom di contratti lavorativi settimanali, il bilancio tratto dall'Ascom. Pastorizia del Borgo Furo, lungo il Sile, rivivono le tradizioni di un tempo. Telespettatori di Rete Veneta ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Treviso, lo avete sentito dai titoli. In apertura ci occupiamo di quel che è successo questa mattina in città, con gli automobilisti costretti a vagare per cercare un parcheggio e la tangenziale cittadina che è finita. Nel caos i dettagli nel servizio d'apertura del nostro notiziario. Nuova giornata di code e caos traffico a Treviso a causa della chiusura di tutti i principali parcheggi della città in vista della donata nazionale delle penne nere, per la quale è già iniziato il conto alla rovescia. Già da stamattina il traffico è andato in tilt con auto ferme ed incolonnate in tutte le principali vie di accesso alla città, lungo la tangenziale di Treviso, quindi sul putto, ovvero l'anello stradale intorno al centro storico, letteralmente intasato. Tangenziale bloccata, si diceva, in direzione Treviso ed ospedale già da Lanzago di Silea. In code è bloccata nel traffico anche la colonna dell'esercito destinata alla cittadella militare al pattinodromo di Treviso. bloccate anche i viari della Repubblica e la Pontebana, al collasso anch'esse da questa mattina con code interminabili ed inevitabili disagi per gli automobilisti. C'è chi sui social segnala come ci sia voluta oltre un'ora per percorrere quasi tre chilometri con l'inevitabile rabbia di quanti, tra automobilisti e commercianti, dovevano raggiungere la propria sede di lavoro o recarsi in ospedale, così come a Borgo Cavalli, per una visita o per effettuare dei prilievi. Questi dunque i video e le immagini della mattinata da incubo dei trevigiani. Noi continuiamo con la cronaca, ci occupiamo del caso di Sinue Pianella con la foto del gazzettino, perché sono disperate le condizioni del 31enne di Pero di Breda di Piave, aggredito lo scorso 27 aprile da un bandito a Londra, un malvivente di 26 anni, l'autore che è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Le condizioni del trevigiano si sono aggravate nella giornata, colpito a colpi di cacciavite alla schiena ed una tempia è stato sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici. Nonostante le cure il quadro clinico si sarebbe aggravato, la ferita al capo in particolare avrebbe causato dei danni. Del caso si sta occupando in queste ore anche la Farnesina che sta supportando le ore delicate per la madre Angelina, la sorella Jessica e la fidanzata Emily, oltre a seguire le indagini da parte delle autorità locali. Noi andiamo avanti con la cronaca e con il tablet. Volevo mostrarvi questa fotografia tratta da Treviso Today, una foto che racconta il pomeriggio di Montebelluna, in via Sant'Andrea ad andare in fiamme è stata la vettura di una mamma. La Zumo, come vedete, attimi di paura, ma fortunatamente nessun ferito. Noi andiamo avanti con la cronaca e ci occupiamo ora di Emanuela Petrillo. Lo ricorderete, l'assistente sanitaria che faceva i vaccini, accusata di aver falsamente vaccinato dei ragazzini, Emanuela Petrillo, questa è la conferenza stampa che ha tenuto a Montebelluna assieme al suo legale, ora risulta indagata anche dalla procura di Udine. I reati ipotizzati al momento dalla procura friulana sono l'omissione di atti d'ufficio, cioè di addempimenti obbligatori a un incaricato di pubblico servizio. A lei accusano anche la falsità in certificazioni. Il provvedimento è firmato dal pubblico ministero Claudia Danelon, titolare del fascicolo, e segue di pochi giorni quello dei colleghi della procura di Treviso, che a carico della Petrillo ha formulato anche l'ipotesi di peculato, accusandola di fatto di avere distrutto o utilizzato in altro modo i vaccini, un bene dello Stato di cui aveva disponibilità. Noi ora ci occupiamo, torniamo ad occuparci di Alpini, perché l'ASCOM brinda, è il caso di dirlo, alla dunata degli Alpini, molti sono i contratti settimanali siglati proprio in questi giorni. Vediamo come sta andando. Mille assunzioni extra per far fronte alla tre giorni della dunata, locali trevigiani pronti alla ressa, plateatici e banconi bar all'aperto. Necessario personale in più, in media due o tre dipendenti per attività, che significa un migliaio di posti di lavoro da qui a domenica. Viva gli Alpini sempre, sapendo che sarà un grande kermesse per chi fa accoglienza, ristorazioni, per i pubblici esercizi, e probabilmente un grandissimo sacrificio per chi ha attività in punto fisso per i cittadini e anche per i servizi che vivono e sono attivi all'interno della città. Non tutti beneficeranno dell'evento adunata, ma di certo per il terziario è un'occasione imperdibile. Bar e ristoranti hanno tutti gli strumenti, dice il presidente dell'ASCOM provinciale Renato Salvadori, per assumere personale straordinario per la tre giorni alpina, senza violare la legge, anche se i voucher non sono più disponibili. Tornano utili tutti gli strumenti che noi abbiamo messo a disposizione, e cioè i contratti per la flessibilità, i part-time, la discussione e la rivisitazione dei tempi determinati, e potrei continuare all'infinito. Quindi grandi strumenti a disposizione per le aziende che che se ne dica e al di là dell'idea prevalente hanno la volontà di cogliere l'opportunità nella perfetta rispondenza della norma. Per cui stiamo facendo, grazie a questi contratti, centinaia di assunzioni per l'emergenza alpini. Emergenza alpini la chiama il primo iscritto di ASCOM. Emergenza alpini lo abbiamo visto in apertura del TG con il caos in città. Ora parliamo di pastoria del Borgo Furo. Lungo il Sile tornano a vivere le tradizioni di un tempo. Ma ora siete stati ricondotti al pastore. Gianni Marini, presidente del gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo. Ecco, una bella iniziativa questa di oggi, intanto è una cosa che si ripete ogni anno. Sì, ogni anno da 25 anni. Abbiamo fatto quel cason che c'è in fondo, dove c'è dentro c'è una mostra di attrezzi di pesca di una volta, che si usava qua sul Sile. e da che a volte anche che abbiamo fatto questo cason che abbiamo sempre fatto la festa. Facciamo parte del gruppo Pastoria del Borgo Furo da tanti anni, amici di Gianni. Devo ringraziare anche la Pastoria del Borgo Furo, che è un'associazione folcloristica che porta avanti i usi, costumi e tradizioni del territorio. Se noi vogliamo incentivare il turismo proprio lungo l'asta del Sile, dobbiamo anche essere attrezzati per dare dei servizi ai turisti. Penso per esempio al lavoro che si sta facendo in tema di piste cicloturistiche, perché questo è un elemento importante. Molti turisti abbiamo che vengono sul territorio per fare il cosiddetto turismo slow, turismo lento, green, legato alla natura, all'ambiente. Questa bravissima associazione sta cercando in tutti i modi di tenere in piedi le nostre tradizioni, i nostri valori. E stamattina penso che questo sia l'esempio, è la risposta che viene data dalle persone. Però io chiedo, ma veramente chiedo, di aiutare queste associazioni, proprio delle nostre tradizioni, perché vedere così è tutto bello, però quanta fatica, quanto lavoro, e chi è che li aiuta? Allora io penso che per una volta dovrebbero capire che bisogna andare avanti con queste manifestazioni, non con i mercati. Queste sono le nostre manifestazioni che rispecchiano quello che eravamo, è la nostra storia. Queste associazioni dobbiamo aiutare, in particolare chi ci dà tanto da fare, che con tanta fatica chiede umilmente di essere presente. E invece tra burocrazia, tra minovò, combattere di certa politica, fanno fatica a rimanere in piedi. Aiutiamole, aiutiamole veramente. Ed ora torniamo ad occuparci di Alpini con l'aiuto del tablet dal sito della tribuna una storia a lieto fine, quella che riguarda il ribattezzato riccio alpino salvato e liberato dalle penne nere. Lo vedete in questa foto, il riccio che è stato salvato dai volontari. Il gruppo di Aosta lo ha trovato durante la pulizia delle mure davanti ai giardini Mazzotti. Si tratta di un bellissimo e anche spaventatissimo, aggiungono riccio, che poi hanno consegnato ai gruppi di Bergamo, Brescia e Latina, che lo hanno liberato in campagna, vicino alla scuola Anna Frank. Una storia a lieto fine, che ci racconta appunto la tribuna di Treviso. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente. Le previsioni per domani. Tempo da variabile a stabile. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con nubi stratiformi compatte e a tratti soleggiato, specie sulle zone orientali e in alta quota. Residui fenomeni nelle prime ore, in seguito precipitazioni assenti, salvo qualche occasionale piovasco o breve rovescio sulle zone montane. Temperature massime in ulteriore calo, minime stazionarie. Venti nord orientali inizialmente tesi, specie sulla costa. In seguito ventilazione in calo fino a venti deboli.